Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Jurassic World Evolution Arriviamo a mille like, condividete il video, iscrivetevi al canale e siete nuovi Lasciate l'hashtag JurassicWorldEvolution qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino E condividete questo video con i vostri amici sui vostri social Andiamo avanti, siamo nell'isola nuova ragazzi Come mi avete chiesto voi E' un'isola totalmente, totalmente tempestosa Guardate che casino che fa qua E siamo arrivati che già è tutto danneggiato E la nostra prima fase è riparare le cose E abbiamo solo 2.240.000 per farlo Allora intanto il ranged team non funziona perché ha problemi di elettricità Quindi dobbiamo assolutamente dargli elettricità con i soldi che abbiamo attualmente Come si può fare? Si crea uno di questi collegamenti qui Perfetto Ce lo mettiamo di fianco al massimo così è meno fastidioso anche da vedere Ok e ci colleghiamo l'elettricità Ce la farò a metterlo? Si l'ho messo E attacchiamo all'elettricità Perfetto quindi adesso ha l'elettricità Ok quindi è funzionale Visto che adesso funzioni Ranged team Ti do delle task da fare Vai a riparare lui Vai a riparare qui la fence Prima che evochiamo qualcosa E intanto vediamo che altro abbiamo a disposizione Allora elettricità Sappiamo che abbiamo dei problemi di elettricità perché anche la substation 3 è rotta ragazzi E molto presto l'andiamo a riparare così non consumiamo neanche troppo Qui anche il viewing gallery è rotto quindi la nostra station andrà a fare dei bei lavori di manutenzione Allora abbiamo anche questo che è in allarme emergenza Ok lo lasciamo in emergenza fino a che non abbiamo finito i nostri lavori E fino a che non passa anche sto temporale brutto brutto Ok dove sono andati i nostri amici ranger Ok con la R possiamo andare dovunque stanno e fargli fare altre cose Allora ripariamo l'amond Ripariamo la repair substation Ok Quindi da dove stanno riparando lì Verranno da quest'altro lato E sistemeranno tutto Allora Con 2.193.000 Dobbiamo cominciare a far rivivere questo parco Come possiamo fare Abbiamo due aree abbastanza piccole E in una dovremmo mettere i nostri carnivori E in una i nostri erbivori Anche se sono un po' strettine sinceramente Quindi direi di iniziare con calma con degli erbivori Allora l'area più grande tra i due a me sembrano abbastanza parallele Io la metterei qua Gli erbivori vai Direi di cominciare a mettere immediatamente un paio Chi possiamo mettere? Quelli che ci costano meno per adesso Così almeno riusciamo a rifare i soldi con meno costo O ci andiamo a mettere due triceratovi Ma io metto gli strutinominus vai Metto un paio di strutinominus qua Ok Così intanto cominciano a gironzolare e ad abituarsi E non abbiamo speso troppi soldi E comincieremo a fare anche i nostri primi guadagni Ok la riparazione è in corso Ha rifatto proprio tutta la struttura per riparare Va bene Ritorniamo dal nostro ranger Ok Hai delle altre task da fare? Questa che devi ripararla Che già te l'ho data da fare E non penso che ci sia altro da riparare in giro No Ok Allora adesso che cosa abbiamo da fare di importante? Dobbiamo fare i centri principali di questa zona Che ci mancano? Allora Operation center L'expedition ci serve assolutamente E il fossil ci serve assolutamente L'esercito possiamo aspettare anche dopo Perché non sono così importanti Ok Allora L'apertura di questo è dall'altro lato Lo voglio mettere da questo punto qui Anche perché l'ingresso sta da giù Là ci metterò dei negozietti magari più tardi Per fare qualche soldo in più Allora mettiamolo un po' più interno Perfetto E questo è l'expedition center A cui dovremo far arrivare anche l'elettricità Ok Allora adesso dobbiamo creare Almeno il fossil center Perché se no che espedizione andiamo a fare Se poi non possiamo trovare nuovi dinosauri Anche perché sicuramente avremo missioni vettorali Nuovi dinosauri su queste isole Te pare? Allora Visto che non abbiamo troppo spazio Cercherò di adattarmi il più possibile Allora qua ci sono un po' troppe cose elettriche Ma riusciamo ugualmente a farcela entrare Va bene così Ci servono le patch di strada Assolutamente Grazie Molto gentile Facciamo questo collegamento abbastanza fatto brutto Ok E ecco un altro Perfetto Quindi sono tutti e due collegati Questo già gli arriva l'elettricità Ma anche a questo presumo Perfetto Arriva l'elettricità a tutto Ok Allora I dinosauri ci servono appunto Da rilasciare Per far arrivare un po' di gente Anche nel nostro parco Così cominciamo a fare un po' di dindi Ok Conosciamo già i dinosauri Quindi lasciamoli scorrazzare un pochino liberi Vai così Ok Allora L'ho messo in coda Una cosa che non ho fatto Giustamente Che è molto importante per i nostri dinosaurini È dargli del cibo Quindi diamogli del buon cibo All shelter is open Ok Dobbiamo chiudere gli shelter Perché se no la gente non viene Perfetto Quindi non c'è più l'emergenza C'è un'emergenza elettrica Dov'è l'elettricità che manca? Non capisco Ah ok Non c'è il collegamento All'acceri Quindi dobbiamo fare Un cavo Per mandargli all'altra L'elettricità Molto semplice Da fare Come quest Ok La mettiamo qua a fianco E magari vogliamo costruire Qualche altra cosa In zona E' meglio E' meglio averci più elettricità Vai così Ok Mo' elettricità ce l'hai? No Non gli basta Ah Quindi non dovevo mandargli un altro di questi Dovevo fare Una nuova centrale Small Ok Allora La prima small Dove ce l'abbiamo Messa qui giù Se non erro ce n'era una qua Ok E' proprio questa Quindi qua a fianco Ce ne vado a mettere un'altra Così stanno pure vicine Una all'altra E non danno troppo ingombro Vediamo un po' Ecco qua Allora mettiamola un po' più dritta Verso la strada Perfetto E la colleghiamo All'altra elettricità Mi sembra anche giusto Ok Dobbiamo fare anche il collegamento Della stradina qui Perfetto Non me l'ha fatto Non so per quale arcano motivo Ti ho detto attaccati Ok Non si attacca Devo fare tutto il giretto Fatto Questa L è brutta Ok Allora Adesso ci manca solo quello Da dare l'elettricità Abbiamo i nostri primi dinosauri Non so se stanno arrivando guadagni Perché non so neanche Se stanno arrivando persone Sinceramente C'è qualche persona Che arriva nel nostro Si ci sono Ok Adesso vogliamo vedere i guadagni però 703.000 704.000 Si guadagna abbastanza poco Quei dinosauri lì Quindi dobbiamo magari Non allargarci Ma fare dei dinosauri Un pochino più seri Sinceramente Allora Sinceramente ancora non sono pronto Ai maledetti carnivori Quindi vorrei separare Anche gli erbivori E fare in quest'azio Invece Degli erbivori Più grandicelli Quindi facciamo Da una parte i piccoli E da una parte i grandi Ce la gestiamo in modo diverso Però là c'è di ancora offline Perché non gli arriva l'elettricità Eccola qua Arrivata Incubator per noi Qua ci mettiamo Un paio di triceratopi Perché i triceratopi Sono belli Sono grandi E sono sempre molto belli Da vedere per i bambini Sono anche un po' pericolosi Sinceramente Però finché stanno bene E stanno in compo Anzi in coppia Potremmo dire che va bene Così Ha l'acqua Ha un po' di alberelli La zona forse un po' stretta Ma per due Dinosauri Può andare bene Allora Allora la research Non la posso fare Perché ho 243.000 Non penso riesco a fare una research Vediamo un po' se ci riesco Forse sì Qualcosina riesco anche a poterla fare Ceratosaurus Guardate quanti dinosauri possiamo fare qua Dilophosaurus Chungkingosaurus Dalla Mongolia Il Velociraptor Possiamo prendere Ma non è ancora il momento Del Velociraptor Vediamo se ci danno qualche quest Ma non mi sembra Una missione ce la rilasci Dai col contratto Magari Nuovo contratto La richiedo io Dai Dalla scienza Dalla di scienza Mi piace sempre di più Ok Un'opportunità si è presentata Devo mantenere un totale Di clientela Di 200 per 5 minuti Non è così difficile Sinceramente Ok Mi è arrivata un'altra quest Di qualcuno Che sta parlando Che vuole questa Non lo so Allora 200 clienti Per 5 minuti Non penso sia troppo difficile Dobbiamo solo far venire gente Quindi avere più dinosauri E avere più zone Per l'accoglienza Ok I nostri ciceratofi Sono pronti Liberiamoli Giustamente già l'abbiamo visti Quindi non andiamo a vederli da vicino Perché sono sempre gli stessi Ok Vai Andate in giro E fatevi vedere Da tutta la nostra clientela Che ci porta più dindi E arriva in tanti Ok Allora Potrei anche fare un'altra cosa Nel frattempo Visto che la clientela È attirata sempre da gadgettini E da cibo È molto più attirata Se c'ha un bel fast food In zona E visto che qui c'è L'ingresso e l'entrata Potrei fare una bella cosa Mi crea un bel fast food Proprio qui vicino Proprio a fianco all'entrata Così la gente entra Si prende qualcosina da mangiare E comincia a farsi il suo percorso Verso i dinosauri Ma comunque Gli serve elettricità Quindi abbiamo bisogno Ugualmente Di fargli Un piccolo collegamento Eccolo qua Con il substation Quindi dobbiamo fare Una substation Che metteremo dietro Così almeno Se vogliamo fare altre strutture Prende elettricità Anche l'altra struttura Allora Fino lì non ci arriva Quindi dobbiamo fare Un paio di collegamenti Ok Ce l'abbiamo fatta Quindi adesso lì Arriva l'elettricità Allora Non so se i guadagni Stanno cominciando ad arrivare E sono aumentati Sembra di sì Perché la gente Sta aumentando E sto mantenendo I 200 per i 5 minuti Infatti stanno cominciando A calare E probabilmente Molto presto Avremo i primi nostri soldini Delle quest Ok C'è arrivata la nostra Prima quest Dalla sicurezza Devo costruire E connettere Un research center Già ce l'abbiamo Un research center Già l'abbiamo fatta Questa quest No Abbiamo fatto l'expedition Dobbiamo fare un research center Però quanto ci costa Mi sa troppo Per adesso Vero Allora Research center Dov'è Research center Costa il 400.000 E noi adesso Ci danno un pochino Di soldi Ma non penso Siano sufficienti Andiamo a prenderci Anche un altro contratto Da Isaac Che magari È più attento A quelli che vengono Nel parco Assisti Ani dinosaur Tocciu Dinosaur Combat victory Come combat victory C'è dovevo far Combattere due dinosauri Ma no Caro Mi dispiace Per adesso Non è il momento Dei combattimenti Mi sa che Ho dimenticato Di mettere il cibo A tutti i nostri animali Quindi stiamo veramente Maltrattando le nostre Povere bestie Allora Gli vorrei mettere Vicino all'acqua Così mangiano E bevono Senza farsi chilometri E lo vorrei mettere Anche a loro Perché non l'ho messa Neanche triceratopi E sarebbe giusto Farlo Il problema È che mi sa Che non mi bastano I soldini Questa è una brutta Situazione Ok Siamo riusciti A completare Il contratto 150.000 Dollari Che per fortuna Arrivano giusti Giusti Per andare a fare Un altro po' Di cibo Perché sono questi Dinosauri Ma poi ci muoiono E noi Non ci piace Che poi costa Proprio 150.000 Oh Costosa sei Ok Allora andiamo a vedere Se riusciamo a prendere Qualche altra quest Diciamo adeguata Perché effettivamente Ce ne sono di non troppo buone Allora Non posso richiedere Un'altra cosa Ok Build connect Empower Search center Costa troppo Dobbiamo solo Aspettare Posso richiedere Un nuovo contratto È passato il minuto Quindi Contratto di scienza Rich 75.000 Dollari Di income per minuto Ma non ce la faccio Adesso Siamo troppo bassi Per fare una cosa Del genere E non ci abbiamo Neanche i soldi Per farlo A parte che adesso Ci abbiamo un income Per minuto Di 60.545 dollari Niente male Wow Quindi la cosa giusta Sarebbe Fare altri dinosauri Probabilmente Così la gente Che viene Paga di più Per guardarli Non ne sono Totalmente sicuro Potrebbe funzionare Allora Vediamo un po' Andiamo a fare Altri dinosauri Grandi A questo punto Perché i tricerati Vi sono dinosauri Grandi E quindi forse Stanno bene In coppia Magari non si attaccano Possiamo provare Allora Costano tantissimo Quindi non abbiamo Possibilità di fare niente Ragazzi Cioè stiamo Proprio a secco Allora facciamo Una bella cosa Per aumentare Le entrate Andiamo a fare Altri piccolini Di questi Perché tanto Questi possono vivere Anche in diversi Di loro Perché sono Abbastanza Picciolini E sono anche al 90% Vai così Uno E due Mettiamoli in altri due E speriamo che ci portano Altri dindi Perché sono su guai Sono pronti Rilasciamoli Giustamente Già li conosciamo Quindi lasciamoli verdi E andiamo a vedere Se effettivamente Facendo così Riusciamo a fare Anche un introito Maggiore Adesso ne abbiamo Scesi un pochino Non so per quale Arcano motivo Ma magari con più Dinosauri Abbiamo più possibilità Di guadagnarci Almeno che Non devo andare a fare Qualche altro negozio Per aumentare un pochino Gli introiti Ma adesso facciamo tutto Ragazzi Vai così Abbiamo due dinosaurini Nuovi E il comfort È al 99% Per lui Ma dovrebbe diventare Al 100% Appena si muoverà E andrà col suo gruppetto Perfetto Quindi questi stanno a posto Ok Qui è salito un pochino Però sinceramente Non era l'aumento Che pensavamo Posso fare un clot shop Che vado a mettere Proprio qui a fianco Al fast food Così proprio Se spostano E se comprano E magliettine Del nostro parco Perché il nostro parco È bellissimo Non è vero Il nostro parco Non è bello È molto pericoloso Ragazzi State attenti Ok Lo devo mettere Un pochino più lontano Perché qui Non me lo fa costruire Penso per difetti Di terreno Non so bene Allora Prima Mi sembra che una volta Ci sono riuscito a costruirlo Ma adesso non so come Allora vai Mettiamolo un po' più in qua Ok Quindi abbiamo costruito Anche il negozio di vestiti Che va collegato Ugualmente Con un pezzettino di strada L'elettricità Da lì gli arriva Quindi va bene così Ok Colleghiamola direttamente a lui Ok Collegata Anche se non si vede Allora Speriamo che questo Ci possa portare Dei guadagni maggiori Perché siamo a 67.000 Siamo quasi vicino Alla prima quest Il nostro negozio di vestiti È pronto E direi di andare A aumentare un pochino La soia Perché Dino Hat Vabbè il cappellino Lo compri a 4 dollari E lo vendi a 6 Cioè non ci guadagni neanche un quarto 4, 8, 12, 16 Come minimo 15 dollari Almeno dobbiamo mettere Dai Mettiamo 15 dollari Che mi sembra giusto Come prezzo Nel frattempo Vedo di farmi dare Un altro bel contratto Questa volta Dal tizio dell'intrattenimento Saremo che ce ne dà uno serio Incubate Accendere le Isat Last 4 New Dinosaur A sto punto Vado a farmela Ma me la faccio Totalmente Di cattiveria Dei piccoletti Così non andiamo Neanche a spiegare Troppi soldi Anche se non ci bastano Sinceramente Quindi per adesso Dobbiamo aspettare Anche per fare quello Dobbiamo rilasciare 4 dinosauri Potremmo fare Due razze nuove Di quelli grandi qua E fare un altro paio Di piccoletti Tanto questi Su piccolini Stanno bene In quell'habitat Ok Siamo a 68.000 Su 75.000 Ancora ci manca un po' E ci buttiamo Anche un bel gift shop Un bel negozio Di regali O possiamo dire Di souvenir A questo punto Allora vai Ce lo mettiamo Qui vicino Vorrei metterlo io Perché così Prende l'elettricità Però non mi sembra Sia fattibile Visto le forme Di questo terreno Schifoso Scosceso Visto che non me lo fa Mettere là sopra Lo vado a mettere Qui sotto Così siamo vicini All'elettricità Lo stesso E siamo vicini Alla strada E alle due parti Dove loro possono andare A vedere Anche i dinosaurini Quindi i regali Se gli vanno a pialla Bravi Così vi piace Ok Allora abbiamo 113 mila dollari E sono sempre pochi Per evocare qualsiasi cosa È pazzesco Allora vediamo un po' Se magari c'è qualche dinosauro Un po' più grande Di quei piccoletti Che posso mettere qui Insieme agli altri Allora tu Quanto mi costi 170 mila Niente Costano tutti troppo Ok Siamo riusciti Grazie al negozio Arrivare a 75 mila dollari Quindi adesso Abbiamo fatto Una delle quest Che ci ha dato Un pochino di soldini Allora Questi soldini Noi possiamo andarli A utilizzare Per fare l'altra quest Del connetti E crea un coso di ricerca Anzi no Perché costa 400 mila Allora andiamo a fare qualcosa Che ci porta Ancora più soldi Dei dinosauri Appunto Che non abbiamo Adesso Allora Possiamo fare Lui Ne potremmo fare Uno Però così Si ritroverebbe da solo Con due triceratopi E non è molto tranquillo Come i dinosauri Lui Se no posso fare Quest'altro No perché mi costa Troppo Che cosa posso fare Lui E metterlo con i piccoletti Un dracorex Dai possiamo mettere Un dracorex Che magari è un po' più Particolare Alla gente piace Rilasciamo il nostro Dracorex Ragazzi Vai Magari ci da un po' Più soldi Il fatto che lui Entra a far parte Della famiglia Speriamo Speriamo Che viene più gente A vederli Allora Stiamo a 159 mila dollari E adesso Ne facciamo Molti di più Per fortuna Almeno Riusciamo a guadagnare qualcosa E magari riusciamo Anche a costruire Qualcosa di nuovo Ragazzi Ho visto Che mettendo Questo dracorex Da solo in mezzo A tutta questa Stirpe Distruti Omimus Si sente Abbastanza Poco ad agio Comfort 81% E sta continuando A scendere Quindi potrebbe Potrebbe diventare Il requieto A me Non piacerebbe Perché Tira Capocciate E queste Ereti Non sono Elettrificate Quindi L'unica cosa Che ho dovuto Fare E mettere Dracorex A fare Quindi Vuol dire Che ne avrò Due Di dracorex Così almeno Vanno Un po' In giro Sperando Che la Viability Riesce A farcelo Incubare Io ho Levato Infatti La caratteristica Della pelle Io ho lasciato Soltanto Quella Della resistenza Vediamo Un po' Se cambia Qualcosa L'ho Rilasciato Adesso Vediamo Se il suo Compagno Di razza Lo riconosce Magari Si sente Più Affine E sta Un po' Più Tranquillo Perché mi Dispiacerebbe Che fa Qualche Danno Adesso Ok Lui sta Al 97% Già Perché Vede Troppe Persone Intorno A sé Anzi Troppi Dinosauri Di un'altra Razza Che gli rompono Le scatole Penso Perché Non ha Ancora Visto Il suo Compagno Dov'è Ok Mi è arrivata Una nuova Quest Dalla Security Aumenta Il tuo Facility Rating Di 3.5 A quanto Ce l'abbiamo Adesso Il Facility A 2.9 Allora Facility Dovrebbe Essere Quella Statistica Che fa In modo Che è più Facile Vedere I Dinosauri Se non Erro Non mi Ricordo Bene Sinceramente Quindi Penso Che se Faccio Un altro Di questi Vimpost Da Quest'altro Lato Magari Potrebbe Andare Bene Non è per niente Buono Costoso Costoso Intanto Visto che ci stiamo E cominciamo a fare Qualche soldino Andiamo a usare Questi 105.000 Dollari Per fare Una bella Ricerca In Cina Perché abbiamo La possibilità Di trovare I fossili Del Chunkingonsaurus Che è nuovo Per noi Del Dilophosaurus Che è carnivore Per adesso Non lo mettiamo E dello Yangosaurus Che già avevamo Che magari Potremo Aumentarlo Vai Fatevi Una bella Schiavata Sono tornati I nostri Fossili Dalla ricerca E abbiamo Anche dei fossili Da vendere E questo Il bello Della ricerca Che possiamo Fare Queste cose Con le spedizioni Grazie Abbiamo Abbastanza Dollari Allora Questo Costerebbe 40.000 Dollari Perfetto Per fare Il Chunkingonsaurus E abbiamo Appunto L'Ambra Che è una Delle migliori Questo qua È sempre Chunkingonsaurus E sinceramente Andrei A estrarre Il DNA Ok Adesso Abbiamo 430.000 Dollari E possiamo Andare A costruirci Il centro Che ci Mancava Il research Dov'è Vieni qua Allora Dove ti costruisco A te Io ti vorrei Mettere qua Vicino Ma non so Se Questo pavimento Avverso Me lo permette Perché vedo Già che è Abbastanza Scomoda Come faccenda Allora Qui non C'entra Cioè È talmente Stretto Per colpa D'esta strada Che lì Non c'entra Allora Facciamo così Visto 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 che È una cosa Di ricerca Che va fuori Dalla logica Del parco Intanto C'è la tempesta Che ci sta Massacrando Direi di metterlo Qua Eccolo qua Ho trovato la posizione Dove piazzarlo Ok Già c'ha L'elettricità In questa maniera Devo solo Collegarci Una piccola Pace di strada E ci siamo Eccola qua Collegata Come al solito Se collega A cavolo Se gliela collegate Appiccicata E va bene Quindi Il nostro Facility rating È calato Siamo a 2.1 Perché Che cosa è successo Che non va Boh Forse perché Non ci si vede In questo momento Perché fa il diluvio Universale Possibile Allora Abbiamo delle strutture Danneggiate Dal temporale Ok Quindi dobbiamo andare Da nostri ranger E dirgli Ranger Gentilmente Andate a fare Del lavoro Andate a riparare 1 E 2 Per adesso Ok E visto che qui ci serve Che non l'ho mai fatto Per sentire il casino La tempesta Andiamo a fare Il ranger team 2 Quindi ne ho sbloccato 1 nuovo Va bene Add task Intanto ho fatto il contratto Di non so che cosa If you build Ah perché ho costruito Quella struttura Ok Andiamo a riparare Immediatamente Andiamo a riparare Quello Immediatamente Porca miseria Quella è roba Pericolosa Da riparare Assolutamente Perché se escono I dinosauri So guai Ok Abbiamo messo Un sacco di roba In coda A riparare E speriamo Che partano Allora Abbiamo fatto appunto Resarchi Quindi abbiamo già 256 mila dollari Abbiamo un problema Vedo un punto esclamativo Che cosa ci dice Una ricerca Disponibile Nuova Da fare Va bene Poi la andiamo a fare Perché adesso i dollari Vogliamo tenerli per noi E sinceramente Voglio cercare di farvi vedere Almeno Per questa nuova puntata Il dinosauro Nuovo Allora penso che ancora Non possiamo farlo Dov'è Non abbiamo power Dove Perché Oh miseria È vero Non abbiamo sufficiente Elettricità Ok è stato riparato Adesso Che fortuna L'hanno riparato in tempo Se noi eravamo Nei guai Ok Che cosa ci manca Qualcosa da riparare No è tutto riparato Ok Allora Ritorniamo a noi Laceri Non possiamo fare Il nuovo dinosauro Ancora Perché sta al 42% Quindi dobbiamo assolutamente Mandare una nuova ricerca Assolutamente Expedition Vai di nuovo qui E vai di nuovo A trovarci Il Chongyonsaurus Ok È l'unico posto Dove si trova In Cina Voglio mettere Un altro bellissimo Di questi Così almeno In questa zona Le persone possono venire A vedere meglio I dinosauri Sono riuscito a piazzarle In pratica Era soltanto Ostruita la strada Quindi non potevo costruirlo Perché c'era anche Quella maledetta Cosa elettrica L'avevo messo io stesso Quindi brutto Bufo Che non sei Mordochino Allora vai Adesso però Te la metto più a fianco E non devi rompere Le scatole Ok Perfetto Allora Dovremmo starci Adesso basta Ricollegarla A questo cavo di collegamento E rifarci Il maledetto Trattino di strada Vai così Vediamo un po' Se funziona Ok Ok L'elettricità E' tutto fuori Ha più visibilità Questo che è vendibile Un jed team Non penso che farò Non penso che farò in tempo Forse Forse ce la facciamo La fammi uscire Che erano morti Soprire un po' La situazione Dalle tempeste Angoletto Abbiamo il nuovo Cynchungosaurus Allora è un dinosauro grande Più o meno Quindi direi di andarlo a mettere di qua E ne faccio sempre due Così almeno Non sbrocca di testa Vai 275.000 Quanto me costi Spero che mi ripaghi tutti i sordi Guarda Perché se no Non spreco dei sordi qua Ok Facciamoli nascere Mi è arrivata una nuova quest Dalla security In crisi Dinosaur genometro All'est 60% Abbastanza facile da fare E giustamente Dobbiamo anche Upgradarlo Quindi che cosa devo fare Devo fare una nuova spedizione Devo andare a cercarmi Un altro po' De Cynchungosaurus Che già sta al 50% Quindi arrivare al 60% Gli ci vuole poco Ok Buon voletto Tu elicottero E adesso voglio vedere Se finalmente possiamo farli nascere Mamma mia Quanto ci mettono I nostri due nuovi dinosauri Sono pronti per il rilascio Essendo nuovo Godiamocelo Vediamo quanto è bello Sei stupendo C'hai il nasone strano C'ha il becco E' quello col becco Raga Quello con le punte del becco Che carino Ok Eh Simpatico Dai Andiamo a far Uscire anche il secondo Così abbiamo due coppie Perfetto Questo vorrei mettermelo pure Sull'altra isola Allora Per adesso c'ha il comfort del 96% Perché ancora non è stato rilasciato l'altro Però ho fatto l'altra quest E mi ha dato 250.000 dollari Che sono comodi Allora Avevo pochi soldi Perché ho deciso di fare Una piccola gabbia Quaggiù lontana Che ci metterò La sua elettricità E la strada Per arrivarci Dove metteremo I primi Eh Diciamo Carnivori Perché ho paura Dei carnivori E preferisco tenerli Lontani E magari fargli anche Una bella doppia recinzione Così non abbiamo Troppi problemi Va bene ragazzi Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Abbiamo evocato tutti E questi sembrano essere Tutti felici Tutti insieme Allora questi stanno al comfort 92% E non gli sta salendo Nonostante stiano in coppia Non so perché Dovrebbe salire Un pochino Di felicità E invece rimangono A 92% Che te manca? Mmm Questo sta al 95% Lui ha 91% Non stanno bene Non sono contenti Non sono felici Restano insieme Probabilmente Non sono razze affini Quindi dovrò Cercare di dividerli C'ho paura Che devo fare proprio questo Almeno che loro Non hanno bisogno Di qualcos'altro Di cosa avete bisogno Ragazzotti? Ecco le loro statistiche Allora Comfort Hanno bisogno Di più foresta Ah Ma che ci vuole Potevate dirmelo Ve la metto Ecco qua Una bella forestina Allarghiamo un po' Ecco qua Dovresti essere un pochino Più contenti No? Ve sale? No? Stanno a scende Ah Tu stai aumentato Però T'ho visto eh T'ho visto T'ho visto Stai aumentato E anche tu stai aumentando Perfetto La foresta Era quello che volevano Stupendo Sto imparando anche Queste piccole cose Piano piano Ok ragazzi Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Arriviamo a mille like Condividete il video Iscrivete al canale Se siete nuovi Lasciate hashtag Jurassic World Evolution Qua sotto nei commenti Vi riceverò un cuoricino E ci vediamo in una prossima puntata Canale Perfetto La prossima puntata 跑 Qui